Il nutrimento è per me, ahimè, prima di tutto piacere. Comunque ho un rapporto molto affettuoso col cibo. Il piacere è la prima cosa nel cibo. Chiaramente poi in ogni paese, ogni cultura, ha un modo di provare piacere anche diverso, ha abitudini diverse, primo motivo è modo di salute. Ormai sappiamo che il cibo è medicina, noi siamo il cibo che mangiamo.